Ciao, sono Maria Vittoria Colucci e Annelisa Valsasina e siamo anche mamma di Benedetta e Giovanna, mamma di Francesco Bianca Federico, sorella di tre maschi, sorella minore, figlie, milanese, amiche, psicoterapeuta, napoletana, consulenti aziendali, cittadine, viaggiatrici, elettrici, clienti, esploratrice, donne che amano il proprio lavoro, counselor, donne che vogliono realizzare un cambiamento, donne che credono nella conciliazione, insomma due matriosche che racchiudono diverse identità e che cercano di realizzarle tutte. Per questo abbiamo creato Matrioska Group, un network di professionisti per supportare le donne nella piena espressione delle loro molteplici identità. Pensiamo che non esista una soluzione unica uguale per tutti perché ciascuno trova il suo benessere in modo diverso e auspichiamo per tutti una nuova organizzazione del lavoro e dei ritmi di vita. Cosa facciamo? Per le organizzazioni? Percorsi di empowerment femminile, supporto alla conciliazione, percorsi formative di counseling e sviluppo del benessere organizzativo. Per gli individui? Supporto alla genitorialità, gruppi di confronto per genitori e sostegno individuale di coppia. Per le scuole? Progetti di prevenzione contro gli stereotipi di genere. Per tutta la società? Cultura, networking, pubblicazioni per sostenere il dibattito sul tema. Siamo un network, abbiamo un blog per cui se vuoi contattarci e seguirci, questi sono i nostri contatti. Grazie. 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 Grazie.